Ho sentito l'intervento del rappresentante e degli studenti, i problemi sono molto duri dal punto di vista delle possibilità reali di incrementare le possibilità della ricerca e della formazione. C'è stata effettivamente una restrizione e dei tagli indiscriminati che ho per primo denunciato e criticato. Ai giovani, agli studenti devo solo dire di avere la convinzione profonda che l'impegno nella ricerca, negli studi, nel processo di formazione è decisivo per il loro futuro, per il loro futuro personale e per il futuro del paese e quindi andate avanti con i mezzi che ci sono per compiere al meglio la vostra formazione.